Riprendiamo, avanti, seconda parte del bracco, piccola pausina Minchia qua è anche umido Sento che arriva, c'è qualcuno attaccato È Davide, è sicuro, eccolo Eccolo qua Vai, li lascia giocare tra di loro Dan Singer ha preso un bruttissimo cliente, ma lui non lo sa C'è da dire che gli sta bene, così la prossima volta impara a fare il figo a Tiglietto Allora, dietro c'è Dario, eccolo, vai Darietto Darietto, non arriva Fabio, Dario era più avanti Qui abbiamo Matte E qua arriva Matt Quanta arroganza questo Gandalf Arrogantissimo Oggi mi trattano tutti male Mi hanno sorpassato tutti malissimo Mi fanno un sacco di dispetti Devo fare qualcosa, non so Probabilmente darò delle botte in settimana Sì Con il fortissimo rischio di prenderle Però se li colgo di sorpresa Comunque, riprendiamo Qua abbiamo Un quintetto Ci sono Tre moto Quella che ne ha di meno Davanti a me Ha 165 cavalli In accelerazione divertitevi Vediamo chi vince Vince la tuono Ciao ciao tuono Minchia Ciao tuono Vabbè Matt in realtà Stava controllando la posta Sul cellulare Volevo aspettare un pochettino Gli altri ragazzi In realtà ci tenevo a fare Una ripresa alla Marica Eccola qua la Marica Avanti Dai che ti vengo dietro E Maneggio si mette sempre in mezzo Ora sto rompi i coglioni Dai è sotto Marica Scannonaci In questo punto qua Manca tanto facile farlo Guarda lì come ci dà Rallento ancora un pochettino Perché volevo aspettare Gli ultimi ragazzi del gruppo Vediamo un po' Se arrivano Eccolo qua Questo è Gaetano Dai è Gaetano E bravo Claudio Oggi Bella giornata davvero Bella compagnia Ci siamo divertiti un sacco Abbiamo chiuso con il bracco Generalmente noi iniziamo con il bracco Ci sta anche Metterlo alla fine Come ciliegina Direi che potrei quasi quasi fermarmi E faccio un altro video Perché Va così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti